Ma perché gli ebrei italiani li portavano nei lager? Mi pare ci furono 6.000 morti, o un numero del genere. Le leggi razziali le facevano in Germania, mica in Italia. Goebbels? Mi pare che era un attore. Auschwitz sta in Germania. I triangoli rosa? E che erano? Anna Frank, l'ho sentito questo nome. Grazie a tutti.